L'astronomia ed i fenomeni celesti, le stelle ed i pianeti allietteranno le osservazioni del cielo anche per il 2021. Sono molti gli appuntamenti in cui gli astri ci stupiranno e ci terranno incollati con lo sguardo all'insù. Alcuni si vedranno, altri ci saranno ma non saranno visibili, altri ancora ci saranno ma saranno visibili solamente in una parte del globo. In questo video ti parlo degli appuntamenti stellari più significativi dell'anno. Sono tanti, quindi mettiti comodo, iscriviti al canale per non perderti i miei prossimi video ed hai un'occhiata alla playlist dedicata alle meraviglie del cielo e ai misteri dell'universo. Ti lascio i link qui sotto in descrizione. Partiamo! Si comincia subito con il 2 gennaio 2021, quando il Sole e la Terra saranno nel punto più vicino tra di loro, ovvero al perielio. Il nostro pianeta si troverà distante dalla nostra stella 147.092.052 km. Nel 2020 il perielio era caduto il 5 gennaio. Nel 2022 capiterà il 4 gennaio. Il giorno dopo, 3 gennaio 2021 sarà possibile osservare qualche stella cadente delle quadrantidi, ma il chiarore lunare potrebbe disturbarne la visuale. L'ultima parte del mese sarà riservata alle congiunzioni. Il 24 Saturno sarà in congiunzione con il Sole. Il 26 Marte sarà in congiunzione con Urano. Il 29 Giove sarà in congiunzione con la nostra stella. In febbraio da segnalare il 5 e 6 alcuni sciami meteorici delle Xi Bottidi e le Lambda Erculidi. Il 19 ci sarà il perielio della cometa 17P Holmes che ha un periodo orbitale di 6,89 anni. Nel mese di marzo, il 5, sarà in cielo la congiunzione tra Mercurio e Giove. Ma lo spettacolo vero e proprio sarà qualche giorno più tardi, il 10 marzo, quando ai due pianeti si aggiungeranno anche Saturno e la Luna. Sempre il 10 marzo ci sarà la congiunzione tra Sole e Nettuno. Il 20 marzo sarà la giornata dell'equinozio di primavera, mentre il 26, Venere, sarà in congiunzione Eliaca. Ad aprile protagonisti saranno la Luna, Urano e le stelle cadenti con lo sciame delle Virginidi, Gamma Virginidi e Sigma Virginidi, nelle giornate che vanno dal 10 al 13 sino al 17 aprile. Da non dimenticare anche le Liridi, il cui picco sarà il 22 aprile. Il 27 aprile, martedì, sarà la volta della prima superluna del 2021. Il nostro satellite si troverà distante dalla Terra circa 357.378 chilometri. La fase della Luna piena sarà esattamente alle ore 4 e 31 italiane, mentre il Perigeo alle ore 16 e 25. L'ultimo giorno del mese, il 30, Urano sarà in congiunzione con il Sole. In maggio ci saranno le Eta Aquaridi, ovvero le stelle cadenti generate dai resti della cometa di Halley. Il picco sarà per il 6. Il giorno 13 brilleranno in cielo Mercurio, Venere e la Luna, che formeranno un bel triangolo. Il 29 maggio i due pianeti avranno la stessa ascensione retta. Maggio sarà un mese favorevole anche per l'osservazione di Mercurio. Il 15 del mese tramonterà 1 ora e 58 minuti dopo il Sole. Il 26 maggio ci sarà la seconda superluna dell'anno ed anche un'eclissi totale, purtroppo non visibile dall'Italia, ma procediamo con calma. L'eclissi sarà ammirabile in Asia, Australia, Oceano Pacifico, Nord e Sud America. A noi non rimane che vedere il nostro satellite nel punto più vicino alla Terra per quest'anno, ovvero 357.309 km. La Luna piena avverrà esattamente alle ore 12.14, mentre il Perigeo alle ore 2.53. Giugno sarà il mese dell'eclissi solare che, parzialmente, sarà visibile anche in Italia. Sarà un'eclissi anulare. Le regioni coinvolte saranno l'Emilia Romagna, il Fruli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Toscana, il Trentino Alto Adige, l'Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Ovviamente, a seconda della regione in cui vi trovate, l'orario dell'inizio del fenomeno e della fine varierà, ma, giusto per dare un'idea, in provincia di Udine l'evento comincerà alle ore 11.48 per raggiungere il picco alle ore 12.28 e terminare alle 13.11. In provincia di Varese comincerà alle 11.33 per giungere al picco alle 12.18 e terminare alle 13.05. In provincia di Ancona comincerà alle 12.07, raggiungerà il picco alle 12.25 e terminerà alle 12.43. Da non dimenticare il solstizio d'estate il 21 giugno, mentre il giorno dopo, il 22, comincerà lo sciame meteorico delle Bootidi, il cui picco sarà raggiunto il 27 giugno. Dopo il perielio del mese di gennaio, in luglio ci sarà la Felio, ovvero il punto di maggior distanza tra Sole e Terra. La nostra stella, il 5 luglio, si troverà lontana 152.100.376 chilometri. Al perielio, se vi state chiedendo quant'era la distanza e non la ricordate, ve la ricordo io. Era di 147.092.052 chilometri. Il 7 luglio, grazie allo sciame meteorico delle gamma draconidi, si potranno osservare le stelle cadenti, mentre il 13 ci sarà la congiunzione tra Marte e Venere. Il 13 luglio ci sarà il perielio della cometa 15P Finlay, che ha un periodo orbitale di 6,51 anni. Per il mese di agosto, da ricordare la data del 2, con l'opposizione di Saturno al Sole. Ovviamente, come ogni anno, le perseidi emozioneranno le serate vicine a San Lorenzo. La data è favorevole, in quanto in quel periodo non ci sarà la luminosità della Luna a rischiarare il cielo. Il picco delle lacrime di San Lorenzo è previsto per il giorno 12 agosto. Tra agosto ed il mese di settembre precipiteranno dal cielo le meteore delle Aurigidi, originate dalla cometa 1911 Chies. Se ne prevedono una decina all'ora. Il 6 settembre le meteore solcheranno il cielo nuovamente. Le epsilon perseidi, infatti, potrebbero sorprendere con la loro frequenza. Il 9 ci sarà il perielio della cometa 4P Faye, che ha un periodo orbitale di 7,52 anni. Il 17 sarà la volta del passaggio della cometa 6P Darrest, il cui periodo orbitale è di 6,56 anni. Il 14 sarà la volta dell'opposizione di Nettuno. Sarà osservabile con l'ausilio di un telescopio. Il 22 settembre, infine, ci sarà l'equinozio d'autunno, esattamente alle ore 19 e 21. Il 27 ci sarà il perielio della cometa 8P Tattol, il cui periodo orbitale è di 13,6 anni. Le stelle cadenti torneranno tra il 6 ed il 16 ottobre, con le draconidi. L'8, il pianeta Marte, sarà in congiunzione con il Sole. Il 25 ottobre sarà nuovamente un periodo favorevole per l'osservazione di Mercurio. Questa volta, a differenza del 15 maggio, dove il pianeta tramontava 1 ora e 58 minuti dopo il Sole, sorgerà 1 ora e 36 minuti prima della nostra stella. Il 2 novembre, grande ritorno della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, quella della missione Rosetta e del piccolo Lander Phile. Non ve la ricordate? E se vi dicessi che vi sto parlando della celebre cometa a forma di paperella? Il 5, Urano, si troverà in opposizione al Sole, mentre il 18 sarà il picco previsto per lo sciame delle Leonidi. Il 19 ci sarà un'eclissi parziale di Luna. Il 4 dicembre, altra eclissi solare. Questa volta, totale, ma non visibile per niente dall'Italia. La potrete osservare se vi trovate in Antartide, Sudafrica o d'Oceano Atlantico. Non l'ho detto prima, altrimenti avrei dovuto specificarlo più e più volte, ma nel corso del 2021 la Luna, Giove e Saturno saranno più volte protagonisti delle serate, in quanto si avvicineranno e si allineeranno molto spesso. In particolare il 17 settembre, il 14 ottobre, il 10 ed 11 novembre ed infine l'8 dicembre. Il 21 non mancherà il sostizio d'inverno, che cadrà alle 15 e 59. Il 2021 si concluderà con una bella congiunzione. Il 29, infatti, Venere e Mercurio si allineeranno. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Come puoi vedere il cielo ci intratterrà molto spesso anche nel corso di questo prossimo 2021. E tu, alzerai gli occhi al cielo per vedere un eclissi, una cometa, un pianeta, la Luna o le stelle cadenti? Fammelo sapere nei commenti. Un saluto stellare da Lucoral.